La sconfitta molto amara con la russi La sconfitta molto amara con la russi La sconfitta molto amara con la russi Invece come sono le condizioni fisiche di Mazzullo e di Erasimenco? Mazzullo, ieri l'abbiamo tenuto in precauzione Perché il ragazzo comunque sia era ristabilito Però abbiamo preferito non rischiarlo In Erasimenco è un discorso un po' diverso In cui il ragazzo soffre dall'inizio dell'anno un problema all'anca Sicuramente non farà parte del gruppo nell'immediato Ora stiamo avendo un percorso per poterlo recuperare più avanti Sperando che il ragazzo poi risponda alle cure mediche a cui lo stiamo affidando